no è bene se lo... cosa che c'era? vabbè c'ho ottenneci donne e non... ehm... mettiamo a due un sacco... un sacco... un sacco... come si chiama? di balume? non ti scandare oh... 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 buongiorno buongiorno una volta la mia.. tu non ti piace una nuova la mia... a non una nuova la mia... ... la mia... la mia... Grazie.